ma cosa sensi ma riano il sensitivo ma cosa ma per piacere sicuramente sicuramente ma per me questa persona esiste quindi è inutile obbligare a tua figlia a costringere a tua figlia di non vedersi con lui perché lui con tua figlia si vede con lui allora è meglio che si incontrano si incontrano si incontrano si incontrano si incontrano si incontrino si incontrano si incontrano il sensitivo si incontrano si incontrano si incontrano si incontrano si incontrano ma si incontrano si incontrano si incontrano si incontrano si incontrano un castello sicuramente ok grazie mariano mamma mia buona sera ciao mariano un bacio allora questi non sono dei veri e propri consulti sono delle predizioni indicative quindi qualora voi deciderete di contattarmi privatamente allora riceverete un vero e proprio consulto si si mariano e andrò a spaziare sui nostri vari ok 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 Grazie a tutti